musica bella raga qui al figame benvenuti alla quarta parte del gameplay di tom e jerry house trap casa dolce casa e stranamente non c'è la musica boh non lo so guanto di ferro iniziamo ok meno male che ho salvato perchè prima mi si è bloccato non mi caricava sto livello non lo so perchè sto gioco sta avendo sempre più problemi oh qui so della versione originale si già è difficile trovarla in rete però lasciamo stare allora si ce ne dobbiamo andare di santa ragione però vorrei prima equipaggiarmi e come si deve uff il toppettino ok poi dai oh no voi me lo dovete dire come ha fatto a schivare quella cavolo di di trick e track perchè non è dinamite diciamo il figlio della dinamite il dinamino boh come ha fatto a schivarlo vabbè fa niente è bello che per attivare le trappole bisogna per forza deselezionare l'arma ecco dopo la caduta ok c'è il burro no c'è il sapore sapore sapone sapone ok la padella non c'è la padella ma c'è il latte c'è il mattarello vabbè ci arregiamo con ste robe qua Allora, piano Ok Però Poi pure tu Tom, che ci fai là sopra? Da Cioè, se mi devi colpire, no? Voglio dire Tove, beccati sto Parzialmente scremato in faccia proprio Perché? Stavi andando di là? Perfect Ecco Peggio di così Eh, dai, però, l'ultimo colpo Eh Ecco, scambio di oggetti proprio La tazza No Eh, però No, cosa che è successo? È successo semplicemente che Ok, Tom, sei congelato da solo Perfetto, no È successo che ogni tanto la mia televisione lo fa Ma lo fa con sto robo dell'HD Che si raffrescia L'immagine Ok Attenti al burro E mi sa che il prossimo livello Dopo attenti al burro Uh Vediamo Ok Attenti al burro Adesso sì Che c'è il burro Non prima Non prima che c'era solo il Il sapone L'ho scambiato per burro Ecco, lì Beh Beato tutto Ok, perfetto Tutu Perché se è colpito Come si deve Fate pure la raffica da tre Proprio Proprio I colpi Proprio No Aspetta No Ok Il topo Non topa Eh, cosa? Lo attiviamo Non si sa mai Ah Adesso ho capito a cosa serve il topo Lo vedrete molto presto Mo' mire Ho capito, vai Tutto ho preso Ok La stanza è un pochino brutta però Eh 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 No eh No eh Eh Ok Sto dando colpi un pochino troppo Un pochino troppo Mettiamo trappole Tutto Perché Eh Andiamo Ecco Altenti al burro Il titolo diceva tutto Il martello Buono Via No No Uh Il tosa erba qua Andiamo L'hai mancato per poco Tom Ti rendi conto che l'hai mancato per poco Quel cavolo di tosa erba Cos'è la pipa qua? Ah no Il mestolo Ok Qualcuno c'è morto Piano 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 No Il mestolo L'alternativa Alla padella E al figame Però Ho paura per il prossimo livello Speriamo che non sia quello Perché Però penso che sia quello E vediamo un po' Non è quello Allora deve essere topo Il taglia erba Che c'è Già stato prima Ok Iniziamo nel nostro Classico luogo Perché iniziamo sempre da qua Quindi è inutile che Vi aspettate un luogo diverso Però La casa Si rinnova sempre Di novità Di aggeggi Di robe Di tutto Ok Adesso si può andare fuori E si può anche andare Vediamo se Tom lo fa No Dai Ok Tom Eh avete visto È caduto Sì Dovrebbe rappresentarmi Un qualcosa che cade Sì Non c'è nessuna trappola qua No È inutile sto posto Ok Questo me lo segno per dopo Piano Piano Ok Dai Tom La casa ogni Si allarga di posti E tutto E qua ci andiamo in giro Invece di darcele Di santa ragione C'è proprio Proprio così Davvero è possibile Raccogliere della colla Già sparsa Andandoci piano piano sopra Senza sporcati i piedi Ah il forno Adesso Sì Ecco E Tom C'era pure andato piano Poi eh Ha preso fuoco Proprio il gatto al forno Proprio Nei cartoni animati Si può Bambini Ok Prima e ultima volta Che al film dirà Bambini in un suo video Però Non ho mai scappato di dirlo Scusate Ad ogni modo Via Tom le sta prendendo Di santa ragione Nessuno di me è stato maltrattato Durante la visione di questo gameplay Durante la creazione di questo gameplay Forse Allora Via No Ecco Attente a burro due volte Il tagliarba Non lo stiamo minimamente pensando Piano Vedi io ti attiverei Perché No Buono buono I pattini lì vicino Fanno Pericolosi Tom e Jerry Che si Tom che si guarda Tom e Jerry Si Dai 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 Corre poi Corre Ok Ed era pure apparso Cioè era uscito il suono di qualcosa che doveva apparire Vabbè fai niente E noi ci vedi Uuuuh Eccolo qua Il gatto meccanico E qua E pericoloso Qua potrei perdere Qua mi giocherei proprio Questo è terribile Questo è proprio l'equivalente Per fare il paragone E' lo Stormy Hasdent Di sto gioco Cioè il livello più difficile di Crash Bandicoot Però paragonato A questo Vabbè In ogni modo lo vedremo nella prossima parte Per ora ci fermiamo da qua Lasciate un like se vi piace la serie E tutto Fistate la mia pagina Facebook E da Alfigime E tutto Io vi saluto E ciao a tutti Ciao a tutti